La gioia perfetta di Shida Yamata dal magazine SRF Primavera 1990 Avvicinandosi il periodo pasquale ho pensato di trattare insieme a voi qualche aspetto della vita divina del Signore Gesù Cristo che possa ispirarci e aiutarci a riflettere sul significato della sua resurrezione nella nostra vita di tutti i giorni Gurudeva esaltava spesso San Francesco d'Assisi come uno dei grandi amanti di Cristo un esempio di come dovrebbe essere un seguace di Cristo Proprio in questa stanza Guruji ha avuto una visione di San Francesco e quella visione ha ispirato la poesia che tutti noi tanto amiamo C'è un episodio in particolare nella vita di San Francesco che secondo me mette in risalto perfettamente l'essenza della vita spirituale Nei primi anni che ho trascorso nell'ashram la nostra venerata Sri Gyanamata ricordava spesso questo racconto a noi devote più giovani Oggi ve ne vorrei leggere alcuni brani Mentre in un giorno d'inverno si recava con Frate Leone da Perugia a Santa Maria degli Angeli assai patendo il freddo pungente San Francesco chiamò Frate Leone che camminava avanti a lui e così gli parlò Frate Leone anche se i frati minori dessero in ogni contrada grande esempio di santità e di edificazione ciò non di meno scrivi e annota diligentemente che la perfetta Letizia non si troverebbe in ciò e San Francesco proseguì il suo cammino per un poco poi lo chiamò una seconda volta dicendo O Frate Leone anche se il frate minore desse la vista al cieco raddrizzasse lo storpio scacciasse i diavoli ridesse l'udito al sordo facesse camminare lo zoppo restituisse la favella al muto e ciò che ancora più grande facesse insorgere alla vita chi giace da quattro giorni nella tomba scrivi che non è in ciò perfetta Letizia ed egli continuò per un poco il suo viaggio e gridò forte O Frate Leone se il frate minore conoscesse tutte le lingue e tutte le scienze e le scritture così da poter non soltanto prevedere e rivelare le cose future ma anche conoscere i segreti della coscienza e dell'anima scrivi che non è in ciò perfetta Letizia e ancora di un poco se ne andò innanzi San Francesco e di nuovo gridò forte O Frate Leone Pecorella di Dio anche se il frate minore parlasse con lingua d'angelo e conoscesse il corso delle stelle e le virtù delle erbe e se gli fossero rivelati tutti i tesori nascosti della terra e conoscesse le qualità degli uccelli dei pesci di tutti gli animali e dell'uomo e degli alberi e delle pietre delle radici e delle acque scrivi che qui non è perfetta Letizia e quando questo modo di parlare fu andato avanti per buone due miglia Frate Leone in grande meraviglia gli pose domanda e chiese Padre ti prego nel nome di Dio dimmi dov'è perfetta Letizia e San Francesco così rispose quando saremo giunti a Santa Maria degli Angeli bagnati tutti per la pioggia agghiacciati di freddo infangati di melma e di fame afflitti e quando picchieremo la porta il guardiano verrà dirato dicendo chi siete voi e noi diremo siamo due dei vostri fratelli e lui risponderà voi non dite il vero siete piuttosto due ribaldi che andate ingannando il mondo e rubando le lemosina dei poveri andate via e non ci aprirà e ci farà stare fuori per tutta la notte sotto la pioggia e la neve patendo la fame e il freddo allora se noi sopporteremo con pazienza una tale crudeltà una tale violenza e una tale insolente ripulsa senza lamentarci né mormorare e caritatevolmente e umilmente penseremo che il guardiano di certo ci conosce e che è Dio che lo fa parlare contro di lui oh frateleone qui è perfetta Letizia e se costretti dalla fame e dal freddo noi picchieremo di nuovo e con gran pianto pregheremo per l'amore di Dio che ci apra e ci lasci entrare ed egli griderà con insolenza ancora maggiore costoro sono gaglioffi impudenti io darò loro ciò che si meritano e uscirà con un grande bastone nodoso e ci prenderà per il cappuccio e ci getterà in terra e ci farà rotolare nella neve rompendoci ogni osso che abbiamo in corpo con quel pesante bastone se noi sopporteremo tutte queste cose con pazienza e allegrezza per amore di Cristo scrivi oh frateleone che in ciò si trova perfetta letizia e adesso frateleone ascolta la conclusione sopra tutte le grazie e a tutti i doni che Cristo concede a quelli che lo amano c'è quello di vincere se stessi e di sopportare di buon grado ancora altre pene colpi ingiurie e disagi per amore di Dio questo racconto esprime l'ideale che ciascuno dovrebbe seguire sul sentiero spirituale l'ideale che si è manifestato nel modo più alto nella crocifissione e nella resurrezione di Gesù la spiritualità non consiste nel potere di guarire il prossimo di compiere miracoli o di stupire il mondo con la nostra sapienza ma nella capacità di sopportare con il giusto atteggiamento tutte le croci che dobbiamo affrontare nella vita quotidiana e quindi di sollevarti al di sopra di esse questo è lo spirito che il maestro voleva infondere in noi lo spirito che dà la forza capace di superare qualunque ostacolo e la suprema felicità per ciascuno di noi giungono momenti di grandi tribolazioni momenti che ci sembra impossibile sopportare ci diciamo perché mi è successo questo mi sembra così ingiusto ogni volta che sono tentata di pensare a questo modo ricordo quell'episodio nella vita di San Francesco che fa notare qual è l'atteggiamento giusto di un devoto di Dio ogni esperienza gioiosa o dolorosa capita per un motivo perché per mezzo suo ci possiamo avvicinare al divino amato la gioia perfetta consiste nello sforzarsi senza egoismo di raggiungere i risultati migliori e nell'accettare poi umilmente quello che Dio ci manda di qualunque cosa si tratti quando i rapporti umani causano delle delusioni la maggior parte della gente si inasprisce non permettete mai che questo vi succeda rivolgetevi a Dio come un bambino che corre a farsi consolare dalla madre nell'amicizia dei veri amici noi godiamo dell'amore dell'unico divino amico e chi ci fraintende e ci giudica male ci dà comunque occasione di fare esperienza di quella gioia perfetta che si prova rivolgendosi a Dio per ricevere da Lui forza e consolazione se avete con Dio un rapporto come questo non potete provare amarezza nei confronti di chi vi tratta male allora considerate il vostro senso di mortificazione di solitudine o di vuoto interiore come qualcosa che vi ricorda di rendere ancora più profondo il vostro rapporto con chi non vi abbandonerà mai questo ho imparato molti anni fa appena giunta nell'ashram mi trovai un gruppo di persone che prese l'abitudine di escludermi regolarmente da ogni sua attività io mi sentivo rifiutata respinta all'inizio la cosa mi faceva soffrire moltissimo ero ancora una ragazza immatura e mi chiedevo perché perché mi respingono ma non provavo risentimento ricordavo a me stessa che non ero venuta nell'ashram per avere l'amicizia degli esseri umani ero venuta per cercare dio spesso uscivo all'aperto nel terreno qui intorno soprattutto di notte e oh come piangeva il mio cuore per l'ardente desiderio del divino amato quando prendiamo questa sincera risoluzione interiore signore io voglio te soltanto te in quell'istante il divino è pienamente cosciente della nostra affermazione da quel momento in poi il nostro compito è sforzarci di accettare ogni avvenimento come qualcosa che ci accade con il permesso di dio impariamo a vedere le nostre prove come segni dell'amore di dio che ci esorta a non essere attaccati ad altri che a lui affrontando e superando le esperienze dolorose spezziamo le catene che tengono l'anima prigioniera in questa minuscola cella del nostro corpo oppresso dalle sofferenze e da emozioni meschine io non so come faccia la gente a sostenere il peso dei suoi problemi senza questa comprensione senza l'amore di dio tantissime persone vengono da me in cerchia di aiuto e il mio cuore sanguina per loro ma noi dovremmo chiederci miei cari che cosa ci fa soffrire non sono gli altri non sono le situazioni nelle quali ci troviamo non è dio siamo noi a fare del male a noi stessi quando commettiamo l'errore di cercare l'appagamento nelle cose esteriori quando siamo pieni di emozioni sconvolgenti di sentimenti feriti e di desideri irrequieti lo sapete che cosa c'è veramente che non va alla radice di queste sofferenze ci sono la solitudine e il senso di vuoto interiore che derivano dal non conoscere dio la nostra anima ricorda l'amore perfetto che una volta abbiamo gustato nella completa unità con il divino amato e noi piangiamo nel deserto di questo mondo implorando di tornare a gustare quell'amore perché nei rapporti umani proviamo gelosia collera e possessività perché ciascuno di noi desidera ardentemente possedere qualcosa che sia esclusivamente suo sicuro che niente e nessuno possano portarglielo via noi cerchiamo una situazione o un ambiente che ci diano questo senso di sicurezza un amico speciale al quale ci possiamo appoggiare un amore che possiamo dire esclusivamente nostro ogni essere umano desidera ardentemente un amore perfetto un unione perfetta con qualcun altro ma dio è l'unico che possiamo possedere in questo modo tutti i rapporti umani prima o poi finiscono con una perdita o una disillusione se non sono saldamente ancorati al divino è stato così fino dall'inizio perché critichiamo perché la nostra vera natura è la perfezione e istintivamente la cerchiamo nelle condizioni esterne negli altri nelle organizzazioni noi ci indigniamo quando queste cose inevitabilmente non riescono a soddisfare le nostre aspettative l'anima desidera ardentemente la propria perduta eredità divina ma finché ci aspetteremo dal mondo la felicità che cerchiamo non potremo mai conoscere la gioia perfetta le condizioni esterne non saranno mai perfette io cerco sempre di ricordarmi di questo i beni la posizione sociale l'ammirazione degli altri sono tutte cose così transitorie ciò che otteniamo o non otteniamo in questo mondo terreno non è così importante come l'atteggiamento interiore che abbiamo verso qualsiasi cosa ci accada ogni giorno e perfezionando il nostro atteggiamento che troviamo la forza la gioia e la realizzazione della nostra innata divinità il maestro spesso diceva che il miracolo più grande che Cristo ha compiuto non è stato resuscitare i morti né camminare sull'acqua scacciare i demoni o trasformare l'acqua in vino la più alta dimostrazione della sua unità con Dio Cristo la diede quando inchiodato alla croce nell'agonia fisica che accompagna l'abbandono del corpo quel bene che agli uomini è più caro di ogni altro riuscì a dire padre perdona loro perché non sanno quello che fanno non è più che